Ciao ragazzi e allora saluto tutti e mi son trovato dallo sgombaro della ditta di elettronica mi son trovato cinque stazioni saldanti professionali tre della Weller tedesca e due della ACO giapponesi e qui c'è da dargli un'occhiatina una riparazione perché sono un po scassatucce ci do un'occhiatina così vediamo se riesco a recuperare qualcosa chissà se riesco a recuperare qualcosa e adesso le apro di fatti vedi qui spingo e va dentro tutto e si muove tutto comincio a smontare così ecco vedete questa è la regolazione come è fatta c'è la regolazione c'è la schedina di regolazione della temperatura questo è sicuramente un microprocessore qui ci sono secondo me un da solo dico io c'è sicuramente un stabilizzatore di tensione e un triac c'è di fatti c'è un 7805 e poi c'è un BT 130 c'è un regolatore la schedina diciamo è semplice una semplice schedina di regolazione e poi c'è il trasformatore di alimentazione bene 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 non si tratta solamente che fissare il tutto qui c'è qualcosa di rotto fissare il tutto sul pannello questo connettore è buono si ho capito ho capito ho capito ho capito ho capito si sono rotti i fermi si sono rotti i fermini cosa posso fare sistemarli qui ci avevano già dato della colla no qui non ci vuole della colla qui ci vuole un fermo o un tirante che lo metto di fuori oppure ci devo dare una bella incollata con la colla a caldo si sono rotti i tiantini ci do una bella fermata con la colla a caldo vado a prendere la pistola adesso questa è quella piccolina questa qui questa è quella piccolina l'attacco intanto già che ho aperto li provo ci do tensione vedo se si accendono e poi tra l'altro mi sono rimasto anche che sono qui questi uno due tre quattro cinque cinque stagnatori che vanno attaccati sono tutti dalla weller c'è il più grande c'è il più piccolo e dopo bisogna che guardo l'uscita che danno i due stazioni saldanti giapponesi se danno per caso la 24 volt perché questo entro alle 20 danno fuori la 24 volt se danno per caso fuori la 24 volt 24 volt 60 watt e allora dopo cambiando o facendo un adattatore per questo connettore qui a questo perché è differente 3 6 7 si è differente così dopo devo verificarsi dalla 24 volt c'è un 325 c'è uno stagnatore per uno perciò qui c'è già la sua punta provo a darci tensione intanto che si scalda la pistola dalla colla caldo attacco dietro ecco qua attacco il filo queste qui sono sezioni saldanti secondo me hanno una trentina d'anni allora corrente attaccata accendo ingrandisco un po così si vede meglio qualcosa si è acceso o però sta già ascoltando minchia allora funziona è solo da riparare è solo da riparare rimontarla meccanicamente rimontarla ecco qui bisogna stare attenti a quello che si tocca perché si è a rischio ecco ecco ho abbassato questi sono i due tastini per alzare ed abbassare la temperatura ecco qui c'è un segmento che gli manca un led un display che gli manca un led vedete gli manca un segmentino e adesso sta andando a 3 e 3 e 50 quanto l'ho messo metto 3 e 80 3 e 70 ha fatto presto andare su ecco dopo lampeggia poi si stabilizza e regola che spettacolo ed è già che ci sono provo ah è perfetto eh va sia il saldatore e va sia il tono pulitina perfetto niente e allora direi che siamo a posto qui si sta scaldando la pistola a caldo con la colla a caldo siamo a posto funziona ovvio che io adesso io le provo tutto quanto ovvio che di 5 stazioni saldanti queste sono belle professionali io quando ne ho una massimo due sono già contento se qualcuno le vuole queste belle professionali dopo vediamo anche le altre due contattatemi scrivete qualcosa che vediamo il prezzo capito allora tolgo tolgo ecco quando togliete il corrente a delle apparecchiature uno dice ho tolto il corrente sono a posto attenzione pensa uno di essere a posto ma guardate sulla scheda elettronica se ci sono dei condensatori questi rimangono carichi adesso questo è sicuramente un condensatore di bassa tensione ma se lavorate con gli inverter con degli azionamenti come ho fatto io l'altro giorno che entra la 110 volte c'è il raddrizzatore di ponte di dio di più lo stabilizzatore con i due condensatori da 4700 microfarad da 400 volt io ho detto adesso provo a invertire la fase per vedere come funziona non l'avessi mai fatto ho fatto un gioco che a momenti saltava proprio l'interruttore della cabina di smistamento poi dopo ho detto adesso scarico il condensatore ero abituato a scaricare quelli di bassa tensione non ero sopra pensiero l'ho scaricato con le forbici ha fatto un ciocco si sono imbornate le punte delle forbici si erano bloccate anche le forbici non riuscivo più ad aprirle e chiudere perciò attenzione quando lavorate in circuiti che c'è dell'alta tensione 200-300 volt sia che sia una continua sia che sia un'alternata fate molta attenzione perché i condensatori specialmente gli invertiti e gli azionamenti che raddrizzano la tensione d'ingresso la stabilizzano va su ai 200-300-400 volt continua ci sono dei condensatori che danno dei ciocchi che se prendete quella tensione lì bene non fa perciò operate in queste schede elettroniche chi ha ottima esperienza faccio un po' di gnocco non il gnocco fritto ma il gnocco dopo vediamo dovrebbe tenere che lo do dappertutto 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 così blocco la scheda tutti quanti fermi rotti le cose a usarle a usarle tanto si rompono hai capito? perciò direi che ci siamo è andato ancora un po' qua sotto ecco ecco direi che ci siamo che spettacolo qui sto già prendendo adesso già che ci sono vado a prendere dell'altro colla degli altri stick di colla e poi apro le altre due posso fare il video così vedete anche come sono messi le altre due se c'è da fare qualche altro lavoro oppure se c'è da controllare qualche componente elettronico che non funziona intanto mi preparo con la colla gli stick di colla poi ci sentiamo nell'altro nel prossimo video ciao